Chiedere e dire l'ora in francese. Per domandare l'ora si dice que l'heure est-il, quello che vedete scritto qua sopra. Per rispondere si dice il l'è e poi l'ora. Ripassiamo dunque come si dicono le ore e i minuti. Le ore si dicono, per esempio, si dice il l'è e poi l'ora. Per esempio, se è l'una si dice il l'è une heure. Le due, il l'è deux heures. Le tre, il l'è trois heures. Le quattro, il l'è quatre heures. Le cinque, il l'è cinq heures. Le sei, il l'è six heures. Le sette, il l'è sette heures. Le otto, il l'è huit heures. Le nove, il l'è neuf heures. Le dieci, il l'è dix heures. Le undici, il l'è onze heures. Le dodici, il l'è dix heures. Ma le dodici equivalgono a mezzogiorno e mezzanotte. Mezzogiorno si dice midi, il l'è midi per dire mezzogiorno. Mezzanotte, minuit. Il l'è minuit per dire mezzanotte. Poi i francesi specificano anche se sono le ore del mattino o del pomeriggio. Quelle del mattino si dicono avant midi. Quindi le dix heures avant midi per dire sono le due di notte, ad esempio. Le cinq heures avant midi, le cinque del mattino. Invece del pomeriggio si dicono de la pre midi. Le six heures de la pre midi sono le sei di sera, le sei del pomeriggio. Ok? Vediamo ora i minuti. Cinque si dice cinq, dieci si dice dix, quindici si dice quince, però quindici equivalgono a un quarto d'ora, che in francese si dice écart. Tenti si dice vingt, venti cinque si dice vingt-cinque, trenta si dice trois, però trenta equivale a mezz'ora, che in francese si dice et demi. Trenta cinque si dice trent-cinque, quaranta si dice quarenta, però si dice anche meno venti e l'ora successiva. Moins venti, meno venti si dice moins venti. Quarantacinque si dice quarenta cinque, però si dice anche meno un quarto, moins les quarts e l'ora successiva, ovviamente. Cinquanta si dice cinquante, ma anche meno dieci e l'ora successiva. Moins dix, cinquantacinque, cinquante, cinque, però anche moins, cinque, infine, poi c'è l'ora successiva. Tanto per intenderci e per applicarci, diciamo tutte le ore comprese dalle sei alle sette. Partiamo dalle sei in punto, si dice il è siseur. Sei e cinque, il è siseur cinque, sei e dieci, il è siseur dix, sei e un quarto, il è siseur quinze, oppure il è siseur e quart. Sei e venti, il è siseur vant, sei e venticinque, il è siseur vant, sei e trenta, sei e mezza, il è siseur trent, ma anche il è siseur e demì. Sei e trentacinque, il è siseur tronc, sei e quarantacinque, il è siseur carant, però anche il è siseur vant, sei e quarantacinque, il è siseur carant, cinque, ma anche il è siseur, moan le car. Sei e cinquanta, il è siseur, il è siseur, ma anche il è siseur, moan le car. Sei e cinquantacinque, il è siseur, ma anche il è siseur, ma anche le sette meno cinque, per cui il è siseur, moan le car. Infine, le sette, il è siseur.